qua pulitissima porto clementino sempre lì non si è spostato impostiamo la rotta rotta impostata la mattina presto come spesso ancora non ha fatto l'alba viaggio sempre gps guardo la rotta così vado direttamente sul punto senza fare troppi zig zag arrivo prima e risparmio meno risparmio più benzina perché il percorso è più lineare se no tante volte per seguire i punti che non si vede tanto bene che sbagli e vai fuori rotta l'acqua sembra bella si vede il fondo a sopra il motore è caldo il dottore di controllo ha dato il via quindi si procede alla navigazione l'alba ora non siamo arrivati inserimento delle pinne mettiamo dentro un goccetto d'acqua nella scarpetta da seduto metto dentro un piede calcio la scarpetta uguale per il secondo piede e sono pronto ok 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 Grazie a tutti. 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 Drone. Drone umano. Il drone sta sorvolando il cappotto. Grazie a tutti.